Buongiorno, benanzati e benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa che come tutte le mattine apre insieme a voi lo spazio dell'informazione, naturalmente prima di guardare i giornali, il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 12 settembre si celebra il Santissimo nome di Maria, il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 19.26, guardiamo le previsioni del tempo, vedete subito evidente l'abbassamento di temperatura, 13 gradi poco più e la webcam ci rimanda a questa situazione, vedete un cielo molto terzo, molto limpido, senza nubi, protezione civile che cosa ci dice, scendiamo un po', partiamo da quelle di oggi, di sabato, il cielo è sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, le temperature sono in leggero aumento e anche per domenica più o meno la situazione è la stessa, non compare la simbologia della pioggia, però il cielo sarà nuvoloso, insomma con transito di velature, nella seconda parte della giornata ci saranno nubi orografiche che offuscheranno un po' il sole, possibilità di brevi isolati rovesci lungo il crinale appenninico, possibilmente nella seconda parte della giornata, previsioni per lunedì, ecco qui la simbologia della pioggia compare, però sempre sui rilievi, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per il transito di nubi sempre orografiche maggiori addensamenti nelle zone appenniniche, rovesci sparsi, quindi insomma le temperature però saranno in aumento, le tendenze per i giorni a seguire, settimana all'insegna della variabilità con un probabile peggioramento nel fine settimana, da venerdì in poi però è previsto un rapido miglioramento. Bene, questa è la situazione del meteo per questo weekend e anche per lunedì, vedete il sole tiene ancora un po' alta la coda lunga dell'estate, è stata un'estate sicuramente dal punto di vista meteorologico molto favorevole, c'è un'andata grassa come si dice. Parliamo dalle notizie, apriamo con il resto del Carlino di Fano, in primo piano in grande evidenza la conferenza stampa che si è tenuta ieri da parte del Movimento 5 Stelle, i grillini portano il caso ambito in Parlamento, interrogazione sui dipendenti delle COP, dopo il blocco, Bubbone scoperto da noi, effetti collaterali quali sono? Dice Adaro Micioli, conosco un ragazzo con fragilità psichica che potrebbe perdere la borsa di lavoro e questa è una notizia che naturalmente ritroviamo in tutte e tre le testate che vi facciamo vedere come ogni mattina. Fenile è troppo bella per essere cementificata, parla il comitato contro il secondo casello che è nato proprio per contrastare il secondo casello autostradale a Fenile, un'opera costosa. E ancora rimaniamo nel resto del Carlino, si apre la scuola lunedì, quindi migliaia di studenti riprendono le attività scolastiche di apprendamento, ma non per tutti, c'è a Pesaro la situazione del Santa Marta e qui a Fano slitta di una settimana l'apertura del Torelli che riapre il 21 perché c'è l'allerta a mianto e dopo la bonifica appunto è necessario anche una ripolettura a fondo, quindi ecco dopo i lavori c'è una bonifica che regala una settimana in più di vacanza ai liceali. Da giugno nell'istituto, a partire appunto da giugno si sono svolte importanti lavori edili, però insomma è necessaria una sanificazione allo scopo di garantire tutto il personale scolastico, famiglie e studenti che gli ambienti siano privi di scorie di amianto. Il preside Giombi dice che non c'erano i tempi per ripulire i detriti e saltano anche i due giorni di sospensione. Rimaniamo su Fano con il resto del Carlino, presentato il progetto di riqualificazione dell'area appunto della strada delle barche nella zona della Marina dei Cesari, migliora la passeggiata del Lisippo, collegamento tra Viale Alighieri e appunto la Marina dei Cesari, sindaco e assessori, valorizzazione economica che naturalmente porterà benefici in tutti i settori coinvolti nel mondo della pesca e nel mondo del diportismo. Vedete questo è il rendering di come verrà appunto in una prospettiva progettuale quella zona e quindi il nuovo percorso prevede la creazione di 128 posti auto, l'arredo del verde e tutto sarà realizzato in nove mesi. Rimaniamo nel resto del Carlino per una vicenda di cronaca insomma che è stato molto scalpore anche per alcune foto, una di queste è anche qui, arrestato il ladro che ha malmenato il farmacista Claudio Mari che vedete in questa foto proprio dopo pochi minuti della sua aggressione. È un ex imprenditore di 67 anni, originario della provincia di Belluno che è stato arrestato ieri a Firenze dai poliziotti della squadra mobile di Pesaro che erano sulle sue tracce da tempo è un rapinatore seriale, insomma gli imputano diverse rapine in farmacie, la metodica era sempre quella, qui c'è insomma ripercorsa anche tutta la storia di quest'uomo da dirigente di azienda bandito alla strana vita del rapinatore di farmacie e oggi sarà interrogato a Ravenna. la testimonianza di Mari dice a un certo punto quando correvamo da più di un'ora mi ha detto non ce la faccio più, avevo capito che poteva essere un imprenditore anche dal modo in cui parlava, era un parlare forbito, insomma aveva destato questo particolare l'attenzione del farmacista che aveva sospettato che non fosse un bandito così improvvisato dell'ultima ora ma insomma che ci aveva una storia alle spalle. Ed ecco ve l'ho anticipato prima, insomma il Santa Marta è l'altro sito scolastico che ha problemi con la riapertura. Al Santa Marta lunedì al suono della campanella parte il corteo invece di aprirsi le aule di scuola e questo corteo parte appunto dall'istituto alberghiero e arriva fino alla piazza percorrendo il tratto di statale, qui insomma non ci dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni non ci sono quelle di bloccare la statale o creare disagi a quanti in quelle ore si recono al lavoro, però transitare sulla nazionale vuol dire attirare comunque l'attenzione di tutti quelli che ci passano in quel momento. Slogan e fischietti, sicurezza e diritto allo studio devono diventare priorità di politica e collettività, questo è l'intendimento di coloro che hanno promosso questa manifestazione, insomma attirare un po' l'attenzione non solo sull'istituto Santa Marta ma in generale un po' su tutto il mondo dell'edilizia scolastica. Di spalla qui il preside Nicolini, il dirigente cita un po' tutto il dislocamento quinte e seconde all'ex Bramante e a San Carlo, qui ci sono tutte elencate le dislocazioni delle aule. E poi in basso il caso Monbaroccio a parlare all'ex sindaco di Sant'Angelo in Lizzola che insieme a Pensalfini, il suo omonimo di Colbordolo ha dato vita al comune di Vallefoglia e qui insomma lui ha percorso questa strada prima e dice fusione, sì fa bene il cittadino aggregarsi al comune di Pesero perché appunto senza di questo farebbe fatica a vivere e quindi insomma appoggia anche l'opera di Matteo Ricci. Ultima pagina del resto del Carlino parla di emigranti e immigrati e emigranti, SOS, insomma sempre emergenza a Pesero, Ingrid Betancura al centro di accoglienza di Nobilara nell'emergenza dei profughi, profughi Pesero è un esempio di gestione e quindi viene preso a esempio per la nuova mentalità che insomma si manifesta attraverso la solidarietà nel pesarese, vedete qui l'avete ancora con il sindaco Matteo Ricci che fugge da guerra, fame e terrorismo non è un nostro nemico ma è un essere umano. Cambiamo testata, andiamo a Pesero con il Corriere Adriatico, quindi rimaniamo nel capoluogo, morto Mancini, si parla di un lutto nel mondo dell'imprenditoria per un personaggio che nel pesarese nel mondo dell'imprenditoria era un personaggio storico, molto amato, appunto il gota di Pesero dell'imprenditoria, lo rimpiange, era un uomo di grande umanità e dedito alla famiglia, aveva 88 anni, è stato un imprenditore di vecchio stampo, amante della cultura, 360 gradi, una vita tra industria e mondo della finanza ma mai in politica perché non era il suo mondo. Questo è il ritratto di Mancini. Tutto è bene quel che finisce bene, come si dice di solito, parliamo della fuga dei due innamorati, a questo punto possiamo dire due ragazzini, lui 18 anni e lei 17, in fuga ora sono a casa, li hanno riconosciuti dei carabinieri tra i turisti a Venezia e quindi li hanno riportati a casa, è stato un gesto di impeto perché volevano stare insieme e questo è il risvolto della vicenda, vi dicevo anche il Corriere Adriatico mette in rilievo l'ambito 6 e la conferenza dei 5 stelle, qual è il ruolo delle copp nel caso Battistini, fanno 5 stelle accusa, alcune incassano milioni ma hanno accettato supinamente l'affidamento diretto. La responsabilità della Giunta che ha cercato di sistemare le cose alla chetichella e ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, fanno, sapete che gli scorsi weekend c'è stata la festa organizzata, la Pandolfaccia per quella rievocazione storica che era un passaggio importante nell'epoca medievale fanese e dal di lì si è preso il via per fare la festa, insomma il palio delle contrade e qualche giorno la Pinettina non è stata proprio un salotto, una sala operatoria ma insomma qualche cosa da sistemare c'era, qualche giorno insomma però qualcuno si è lamentato ma ora la Pandolfaccia ha rimesso tutto a posto, insomma se anche per qualche giorno non era un prato inglese, insomma la Pinettina ora però è perfettamente ripulita dopo la protesta di alcuni residenti in otto giorni tutto è tornato a posto, ecco con il beneplacito di tutti, però insomma la manifestazione è ben riuscita, teniamo presente che sono transitate da quel sito migliaia di persone, quindi insomma qualche cosina sicuramente andava messa a posto, però insomma se tutto non era a posto poche ore dopo la fine non era poi male di nessuno. Andiamo ancora su Fano e Valcesano, bus più cari, insomma è una tassa occulta, Landini va contro la regione, provvedimento sbagliato che non affronta però i veri problemi perché insomma è una vera stangata per alcune famiglie perché non si parla di pochi spiccioli, insomma sono diverse decine di euro di differenza rispetto a prima. Cambiamo testata, Pesaro, Ricci rilancia la città dello sport, non solo musica e bici, Pesaro sarà candidata anche come città europea anche in questo ambito, quindi lo sport, un'altra perla di Pesaro che Ricci vuole portare avanti, accolta la richiesta, ora il Comune dovrà inviare un dossier con eventi e società e impianti a disposizione. Eccolo qui Mancini, signore degli industriali, in questa foto recente. Adesso andiamo a vedere le altre pagine appunto che riguardano i migranti per le Marche però sarà una casa per 2.800 rifugiati, ieri altri 50 sono provenienti dalla Sicilia, sbarcati da un barcone in arrivo nelle Marche, la maggioranza però è accolta nel Anconetano e nel Maceratese, il GUS dice la solidarietà della gente è fortissima, siamo sommersi da telefonate di persone che mettono a disposizione all'oggi e anche Maurizio Landini come leggevamo prima in marcia per questo evento di solidarietà, un dovere combattere anche il razzismo. la pagina appunto di Pesero del Messaggero dove c'è l'articolo che riguarda questa richiesta di Matteo Ricci, città dello sport, la nostra e l'assessore della Dora dice la nostra richiesta è stata accolta appunto quindi un dossier voluminoso qui indicato con impianti e manifestazioni sarà presentato per orare questa causa per Pesero, basket, volley, calcio e rugby in piazza tutti insieme naturalmente appassionatamente per mostrare questo aspetto della città di Pesero. Ultima pagina quella del Messaggero di Pesero, di Fano che vi mostriamo come sempre, i Cinque Stelle portano in Parlamento il pasticcio dell'ambito 6, nuovo dirigente per superare l'impasse, i sindaci pensano ad un incarico temporaneo ma i grillini avvertono la coordinatrice licenziata e solo un capo espiatorio. Poi contro l'Isis anche una fanese che parte nella carovana umanitaria in partenza per aiutare il popolo curdo e qui in basso appunto i liceari del Torelli a scuola il 21 settembre il ritorno in classe appunto slitta di sette giorni per bonificare l'area sull'eventuale presenza di Amianto. Bene, questa è l'ultima pagina che vi facevo vedere per oggi sabato e naturalmente buon weekend a tutti d'obbligo, la Ressena Stampa torna naturalmente lunedì mattina alle 7.30 a disposizione di tutti voi per iniziare la giornata con l'informazione di Fano TV. Per il resto c'è il nostro sito, come sempre le nostre pagine Facebook per rimanere aggiornati in tempo reale. Buon weekend a tutti. Grazie a tutti.